Nella splendida cornice del Palavanni di Firenze, Alia Multi Utility ha presentato un nuovo spot per trasmettere ai cittadini attenzione alla pulizia dei luoghi pubblici. Un impegno che potenzialmente potrebbe far risparmiare all'azienda 20 milioni di euro all'anno e che è stato accostato ad immagini sportive per richiamare al gioco di squadra una similitudine che si riferisce alla partita, a cui le persone devono partecipare per una corretta gestione dei rifiuti, evitando fenomeni come l'abbandono dell'immondizia e alti vandalici vari. Abbiamo utilizzato il linguaggio universale dello sport per lanciare un messaggio forte ai nostri concittadini. La partita dell'economia circolare si gioca 50% con il lavoro dei nostri operatori, ma 50% con la collaborazione dei cittadini e quindi per combattere il degrado e lanciare l'economia circolare sul nostro territorio è importante la loro collaborazione. Abbiamo messo in campo un lavoro importante, è una campagna multicanale che dura un anno, quindi troverete degli spot in tv, uno spot radio, una campagna di affissioni digitali e fisiche che abbiamo realizzato in collaborazione con i nostri comuni soci e poi tutta una serie di iniziative che si svilupperanno nei vari mesi fino a novembre. Un'idea intuitiva, ci troviamo in un luogo dello sport dove fare squadra, dove la comunità fiorentina e dello sport si riunisce e questo è il senso del modo con cui noi intendiamo che sia guardata la gestione della raccolta dei rifiuti, dello smaltimento dei rifiuti. Non basta l'azione dei nostri operatori che tutti i giorni sono in strada a lavorare per la pulizia delle città, dei luoghi, delle campagne, ma c'è bisogno che tutti i cittadini, che tutte le imprese siano attivi e si sentano responsabili dei gesti che fanno. Farlo è importante, è importante per l'ambiente, è importante per il decoro, è importante anche per l'economia. Noi abbiamo fatto una prima stima di quelli che sono i costi dell'inciviltà, le abbiamo chiamati così, che valgono almeno 20 milioni di euro, in cui ci rientrano tutti gli atti vandalici. È un invito a tutto tondo e una crescita della consapevolezza ambientale che per fortuna, soprattutto tra i più giovani e le più giovani, è così molto diffusa.